In questo numero del Salus Tg, l'OMS dichiara l'Ebola in Africa occidentale un'emergenza di salute pubblica internazionale. Nuova tecnologia italiana è in grado di mostrare dettagli cellulari mai visti prima. Carcere per chi istiga all'anoressia, circa 300.000 siti pro-ana da oscurare. Ebola in Africa occidentale è un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale. Ad annunciarlo è un tweet dell'OMS, dopo la riunione del Comitato di Emergenza, per discutere proprio se dichiarare l'epidemia della malattia un'emergenza di portata internazionale. Alcuni gravi eventi che mettono in pericolo la salute pubblica, spiega l'OMS, possono essere definiti emergenze sanitarie di portata internazionale. Questa definizione comporta che l'evento è grave, insolito o inaspettato, che le implicazioni per la salute pubblica vanno al di là delle frontiere nazionali dello Stato interessato e che potrebbe essere necessaria un'azione internazionale immediata. Super Microscopi, in grado di rendere possibile l'osservazione di dettagli biologici finora mai rilevati. A sviluppare questo nuovo progresso tecnologico per la biologia cellulare e soprattutto per la diagnostica medica, ricercatori italiani, capaci di una risoluzione molto maggiore rispetto agli attuali microscopi ottici, i Super Microscopi offrono, oltre alle immagini, un metodo per misurare le dinamiche di singole proteine e micromolecole all'interno delle cellule. E proprio grazie al nuovo metodo, i ricercatori sono stati in grado di mettere a fuoco le particelle virali delle epatite B, che posseggono un diametro di 50 nanometri. Proposta di legge bipartisan per introdurre il reato di istigazione all'anoressia, quella forma di promozione della malattia che avviene soprattutto attraverso siti internet noti come Proana, in voga anche fra i giovani italiani. Ci aveva già provato nel 2008 il ministro della salute Beatrice Lorenzin, che aveva messo a punto una proposta di legge mirata a oscurare i circa 300.000 siti pro anoressia e bulimia e appunto a prevedere un'estensione del reato di istigazione al suicidio.